Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti, il pubblico si è allargato. Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti, il pubblico si è allargato. Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti, il pubblico si è allargato. Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti. Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti, il pubblico si è allargato. Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti. Il mondo, l'opinione anche di tanti addetti a lavori giornalisti. A quello che è stato la storia della musica d'autore, del passato della musica americana negli anni 60 e 70. Ma Robin Pecknold e i Fleet Foxes hanno un talento musicale originale, un gusto per l'arrangiamento, le costruzioni vocali. Lo stiamo sentendo durante questo concerto sicuramente unici, gusto e talento. Lo spettacolo vive queste piccole pause tra un brano e l'altro. L'atmosfera è molto raccolta qui all'Estragon di Bologna, un piccolo club.